Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Scandicci e il Bivio a 1-11 in direzione di Bologna. Voltiamo pagina per le statali sul raccordo Siena-Firenze e scambio di carreggiata per cantieri tra Firenze-Certosa e San Casciano Nord in direzione di Siena. Ci spostiamo sulla S.G.C. Grosseto-Fano, riduzione di carreggiata per Frana tra Alberoro e Montagnano in direzione a Montagnano. Raccomandiamo di prestare attenzione. In chiusura per il traffico aereo ricordiamo che è in corso per l'intera giornata uno sciopero del comparto aereo. Numerose le cancellazioni o i ritardi per i voli in partenza dagli aeroporti toscani di Firenze e Pisa. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!